La notizia di ieri non è il dissenso del singolo parlamentare, è il fatto che ci sia stata una langa convergenza. Poi c'è una sfida, che è una sfida da far tremare le vene ai polsi, e cioè come migliorare quelle condizioni. E la prima cosa da fare, vede, l'ho proposto un mese fa, è quello di svuotare i centri di accoglienza in Libia. Tutto questo oggi può essere fatto, può essere fatto d'intensa con le autorità libiche, perché è evidente che nel momento in cui c'è una guerra civile, tu devi pensare a proteggere quei migranti che sono nei centri di accoglienza. E come si può fare però? Chi li può proteggere? Liste non ci può andare nessuno. Bisogna fare un piano di evacuazione europeo. L'Europa deve andare in Libia, insieme con l'Unione Africana e con le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite già sono in Libia. E predisporre corridoi umanitari e rimpatti volontari assistiti. E chi ha diritto alla protezione internazionale si fanno corridoi umanitari verso l'Europa, si fanno immediatamente. Chi non ha diritto alla protezione internazionale viene rimpatriato con un budget per si farsi una vita nei paesi di provenienza. Tutto questo non deve essere una chiacchiera, deve essere fatto immediatamente, perché quando c'è una guerra civile i centri di detenzione per i migranti vanno svuotati. E questo è l'impegno dell'Europa e l'Italia deve impegnarsi concretamente in questa direzione. Vede, c'è un elemento importante, che su questo tema si può trovare oggi la collaborazione delle autorità libiche. Perché è evidente che nemmeno loro ce la fanno. Per una ragione semplicissima, in questi giorni numerosi di quei centri di accoglienza sono stati evacuati perché i libici non erano in condizione di garantire nemmeno la sicurezza di quelle persone là dentro, non erano in grado di garantire la vita. Su questo c'è bisogno che la comunità internazionale, l'Europa, mettono in campo una iniziativa immediata. Se si fa questo, lei comprenderà che anche le questioni relative ai centri di accoglienza cambiano significativamente aspetto. C'è bisogno di assumere un'iniziativa, non di stare a chiacchierare. Vede...